E la regola? Qual è la regola della maggioranza delle persone? Commento L'incomprensione di qualunque ipotesi di trascendenza è la regola per la grande maggioranza delle persone. Ciò non toglie che l'insegnamento delle guide immateriali debba essere divulgato sin da adesso perché sia a disposizione di chi ne avrà bisogno.